Allora è successo che quello schifoso di Jeric ha dato la... No questo è un demente, questo è un demente, sei un demente, no, no Anna, no, allora adesso... Avevi detto a me per prima, no, tu vai al centro del tavolo, se sbagli una parola ti distruggo tutto quello che hai No ti frego, ti frego, è ancora più pressione 3, 2, 1, vai Siamo andati nella base rapitrice dove c'era Paga e abbiamo visto cose oscene che faceva con la Rapi E abbiamo scoperto che oltre a sentirsi su Discord e che si mandavano le foto e lasciamo perdere Facevano cose oscene tipo con la spada che facevano robe orribili E abbiamo scoperto che come era successo con Alex, con la rapitrice La Rapi è entrata attraverrete nel computer di Paga e ha inserito la sua nuova arma che è il Bartello di Tor Ok, va bene, perfetto, visto? Ci sei riuscito Mi è arrivato proprio la conoscenza Tu la vedi qua sulla spalla la mia minaccia e hai performato Ma anche dietro al collo, non sulla spalla Vedi che ti distruggevo tutto, 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 tutta la laiva a distruggere le cose a te Ma non è la lista mia di domani per due? E anche a te, ci passavi anche te, ci passavi anche te, se io mi incazzavo con lui ci passavi anche te Dove ce n'è per uno ce n'è anche per due Grazie Stray, allora, che hai fatto bene No, non voglio venire di nuovo